L'epidemia da coronavirus non molla l'Australia. A Melbourne si è arrivati alla drastica decisione di isolare nuove torri di edilizia popolare nell'area nord della città. Per cinque giorni 3.000 persone non potranno uscire di casa per nessun motivo. 500 poliziotti controlleranno le uscite. Ci penserà la protezione civile a fornire cibo e medicinali. Gli abitanti di queste palazzine non pagheranno l'affitto per le prossime due settimane, assicura il premier. Chi ha un lavoro ma non può andarci a causa del lockdown riceverà 1.500 dollari australiani. In Messico il numero ufficiale dei morti ha superato le 30.000 unità ma secondo la siglia rota, un sito di informazione, il numero dei morti potrebbe essere sottostimato. A Città del Messico la sindaca ha chiuso il centro nel weekend a causa del superaffollamento. Purtroppo molti non hanno rispettato le misure sanitarie, si sono creati troppi assembramenti. Dobbiamo evitare queste situazioni. Per questo abbiamo deciso di chiudere l'area sabato e domenica. In queste immagini vedete una protesta andata in scena a Coabamba in Bolivia, dove una famiglia ha bloccato una strada con una bara avvolta nella plastica. Dentro il cadavere di un uomo morto da una settimana, in attesa di essere trasportato al cimitero. Alla prossima